Musica Ragazzi ed eccoci qui con un'altra puntata del nostro Venezia e con le cuffie nuove Speriamo che vi sentono bene Allora ragazzi oggi abbiamo Genova e Lazio Quindi contro il Genova e in Toria possiamo fare punti Contro la Lazio è pesantissima Siamo sesti a 16 punti a pari punti con il Cagliari quinto E stiamo giocando bene ragazzi Oggi penso di fare un po' di turnover visto che poi appunto abbiamo la Lazio Quindi Caldara lo facciamo riposare Oggi vai Pirola Pobega io lo farei riposare ragazzi di una verità Tanto c'è Busto Busio E per il resto io a sto punto metterei Forte titolare perché Forte sta giocando bene E niente ragazzi andiamo alla partita Speriamo in bene contro il Genova Dovremo fare 3 punti Eccoci ragazzi Genova-Venezia Il nostro Robella Il nostro Robella L'ex di turno E ragazzi siamo sesti Ovviamente dobbiamo cercare di vincere perché il Genova è una squadra secondo me è una squadra comunque a paio punti come a noi La Lazio è tosta però magari con il Genova riusciamo a fare 3 punti per poi andare comunque e provarcela a giocare con la Lazio anche se è molto tosta come partita Però ragazzi non si sa mai magari riusciamo a fare la partita Ehi Mans ci prova a passare due volte non riesce Ripartenza adesso del Genova Attenzione Subito il Genova Berami la cambia bene Passaggio indietro Berami Ancora loro Mamma mia Uh ci prova a destra Brutto 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 come tiro Però Primo Primo pericolo del gioco in teoria non lo so Fiorillo Ancora Busio La cambia Niente Oggi non riesce a passare Secondo tempo ragazzi metto Maldini Che fa tanta fatica vedo No Uh Dai Pirola Bella ragazzi Dai Bella La cambia Ehi Mans Niente Ehi Mans Oggi non è in forma Raga Ancora loro Attenzione A destra Destro 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 Qualcuno che chiude Raga Ancora Eh ma non c'è mai nessuno che chiude Dai Berami Ancora la cambia Ancora Mamma mia Pizzarri ragazzi Diventato fortissimo Pizzarri Nostra Lunga Vai Vai forte Recupera Sì Gurson Però infatti Fatti pietà Mamma mia Ancora loro Ma grandissimo Pirola Niente 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 Ancora noi però Dai Partiamo Gli attaccanti Non lo so Che problemi hanno I miei attaccanti Ancora il Genova Morales Attenzione Ancora il Genova Prova il Tiro Fuori Rimessa per noi Pirola Calafiori La cambia Busio Sigurdsson Dai Amans Dai Ma no Ci stava però Recupera bene Il Venezia Adesso Provella Ma fatemela Finire L'azione Ma perché Ogni volta Che io sto facendo Un'azione Sono in attacco Fischia Cosa assurda Ogni volta È così Ogni volta Quando giochiamo Noi Boh Quando gli altri Sono in attacco Giustamente Fischiano Cioè Dopo 20 minuti Fischiano Quando siamo noi In attacco Subito Fisca Hanno fretta Allora Sbobba È stanco Però non abbiamo Cambi Quindi Sbobba Devi resistere Sbobba Due cambi Zero a zero Ci sta Ci sta Sto Zero a zero Ragazzi Insomma Sì Dai Diciamo che ci sta Però Meglio di niente Maldini Messo come Magari Dai Eh vabbè Qua Pirola dorme Mamma mia Sbobba Spazza via Rovella Dai 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 Salite Dai Cambia bene Fior di Rillo Sì Vabbè Destro Attenzione Mamma mia Fior di Rillo Che la butta via Ma niente Busio Attenzione Attenzione Al Genoa Erkans Ancora Prova Recupera bene Fiorillo Che spazza Troppo La spazza Rimessa Laterale Per loro Dai Ancora Il Genoa Berami Cambia bene Destro Allarga Di prima Plizzari Tranquillo Pirola 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 Rovella Rovella Dai Dai ragazzi Dai Maldini 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 Puttala in mezzo Tira 1-0 Al novantesimo Sigusson Ragazzi Va il Venezia In vantaggio Va in vantaggio Il Venezia 1-0 Maldini L'unica cosa Che poteva fare Era quella Pallonetto in mezzo Per Sigusson Che rimane in gioco Grazie al difensore Al numero 25 Del Genoa E Venezia In vantaggio Al novanteso Adesso daranno tipo 32 milioni Di minuti Di recupero Però Due minuti Di recupero Però io vedo Adesso Due minuti Quanto durano Vadelì Ok Ok A posto Meno male Meno male Che si sono fischiati subito E si vince ragazzi Si rubano Tre punti Al Genova Il Genova Ha meritato Però noi Abbiamo giocato Di testa La Lazio Ha pareggiato Quindi verrà da noi Che sarà una bestia Perché Col pareggio Verrà da noi Incavolata Nera 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 Quindi è pesante Allora La scuola Venezia È imbattuta Ah Siamo imbattuti Abbiamo i giocatori giusti Insomma Dobbiamo lavorarci un po' Però Stato un match Equilibrato Un po' di fortuna Ogni tanto Non guasta Abbiamo avuto un po' di fortuna Siete riuscite a segnare il gol Siamo stati più forti Anche se il Genova Ripeto Ha fatto una bellissima partita Adesso Abbiamo la Lazio Adesso abbiamo la Lazio Ragazzi È tosta Siamo quarti A 19 punti La Fiorentina è prima Ma Ma Fiorentina Milan Inter Ma Allora Non stiamo seguendo i piani Non so di che piani Stai parlando Visto che comunque Siamo in zona Europa Grazie della disponibilità Fiordirillo Bravo Abbiamo Fiordirillo Che comunque Sta facendo Anche se Non è il suo ruolo Sta facendo Allora Un paio di cambi Questo giro Maldini Me lo voglio giocare subito Fiorillo Sta giocando come terzino sinistro Mettiamo lui Per il resto Ragazzi Non tocco nulla No Meglio non toccare nulla No Meglio non toccare nulla Anche perché Fiorillo Piano piano Si sta trasformando In terzino E andiamo alla partita La Lazio È superiore Speriamo di fare Bella figura Contro la Lazio Non dico Di vincere Perché Non penso di vincere Però Almeno Non prendere 5-6 gol Con l'Inter Abbiamo preso 5 Con il Milan Abbiamo preso 4 Con la Lazio Quanti ne prendiamo Poi non ho capito Perché hanno rovinato Scrivendo Latium No ragazzi Latium Non si può sentire La maglietta Più o meno Sbobba Che fai Più o meno La maglietta Come sono aggressivi Laziale La maglietta Ci sta Più o meno Assomiglia Alla maglietta Loro Rovella 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 Anche perché La Lazio Ragazzi Non so dove sia Ehmans Ehmans Tira Ehmans Mamma mia La Lazio Mi sa che è sotto Di noi comunque Perché c'è prima La Fiorentina Fiorentina Milan Inter Se non sbaglio Poi ci siamo noi Poi ci siamo noi E poi sotto c'è la Juve Quindi la Lazio dovrebbe essere sotto di noi Ok voi mi dite Vabbè Appena è iniziato il campionato Sono dieci partite Però raga Dieci partite Intanto Eccola qua la calcifica Ok si l'avevo azzeccata Però Dieci partite Essere lì Non è male Ok E' presto Il campionato è lunghissimo No Però Meglio che essere No Caldara Che tua Bravo Sbobba Prizzare Tranquilli ragazzi Tranquilli che Che poi fate cazzate Ecco Sapevo io Tranquilli che poi fate cazzate Akpa Scalante Luisa Alberto La cambia Isai Isai è andato alla Lazio Gakpo Ha dei Attenzione Mamma mia Moro Meno male che c'è il piede quadrato Moro Magari ragazzi Se ci va di fortuna Va a finire come col Genoa No Gol Uh Prizzarri Mamma mia Salva Salva Prizzarri ragazzi Attenzione Vai Maldini Campo grandissimo Maldini di prepotenza Eh ma Vai Vai Giorgio Buttala No Era partito Attenzione ancora alla Lazio Adesso Moro Ancora Moro Uh Eh vabbè 1-0 Lazio Ci sta ragazzi La Lazio è molto superiore a noi Ha anche un po' di culo Però La Lazio ci sta Che ci batte 1-0 Lazio ragazzi Non ha fatto tantissimo la Lazio Però Poi Moro così Che fa il tiro a giro A caso 1-0 Lazio ragazzi Vediamo come reagiscono il nostro Il nostro Venezia Sbobba Caldara Noo Dai ragazzi Dai Ancora Adelante Scopera Bene Ehmans Ma non a lui Niente A spazzare facciamo pena A spazzare Mamma mia Prizardi A spazzare Facciamo pena Ragazzi A spazzare Ancora Ancora Loro Via Maldini Di testa Ma ancora Palla Loro Moro Moro Dai Scopera 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 La cambia Prizardi Prizardi Ragazzi Sta facendo I miracoli Sta facendo I miracoli Prizardi Miracoli Sta facendo Prizardi Coramoro Mamma mia Vai Rovè Noo Coramoro La cambia Ma Vaffan Mizzica 2-0 A Cerbi Ci segna Cioè ragazzi Siamo messi malissimo Se ci segna A Cerbi Vuol dire Che siamo messi mali Forti Però Rovella Maldini Dai Ehmans Ehmans Ma non c'è mai Nessuno e mezzo Ancora Ehmans Buttala e mezzo Ma non così Ma perché Rovella Tranquillo Rovella Ma Va bene Ma 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 no Ragazzi Ma come Cavolo A Cerbi A Cerbi Maldini Manonco Bo Patrick 2-0 Primo tempo Amara Ehm Cioè non è che abbiamo campioni Allora Fiorillo E' stanco Ehm 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 E non ho un Beh mettiamo Pirola Che è già più riposato E basta Ragazzi Non possiamo fare altro Maldini Sigurdsson Vega Rovella Maldini Niente Non riesce a passare Patrick Indietro Verso Rena Patrick Escalante Caldara 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 Ehm Poi scappano Quando abbiamo la palla Scappano Scappano Quando abbiamo la palla Boh Bravo Caldara Scappa la gente Cioè non è che ti dicono Vabbè Ti veniamo incontro Ti veniamo una No Scappano Maldini Vai che tua Vai Rovella Mannaglia Cioè loro attaccano In 7 In 8 Noi attacchiamo 1 Attacchiamo Noi 1 Attacca Tutti gli altri Avanti a cavolo Tutti attaccano Grande Caldara Pobega 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 Tutti che scappano Tanti fuori gioco 2 a 1 In fuori gioco Si è fuori gioco Però lo dice dopo mezz'ora Capito che è fuori gioco Ti fa illudere E poi dicono No è fuori gioco Quando finisci le esultanze Fuori gioco Isai Moro Isalberto Campola cambia Moro Moro Mamma mia Pirola Rovella Rovella Vero Siamo la sfiga Perché i giocatori Non aiutano Non aiuta nessuno qua Non aiuta Poi sto qua che fa fallo E non fischia neanche Cioè va Loro attaccano 2000 attaccano Ogni volta E noi 1 1-2 Attacchiamo noi Ma ormai è finita Loro fanno possesso palla Fino al novantesimo Ma loro fanno possesso palla Vai Rovella Vai Rovella Dai Basta Dai Adesso Fischia Finita Fanno il Barcellona Che non saranno mai Staccavano di squadra Bravo Bravissimo Luisa Alberto Va bene così Bravissimi E poi ne pigliate 32 Poi Beccate le squadre Come l'Inter Come Non dovevamo perdere così Potevamo perdere 1-0 Ok Però Perdere così Allora Questa sconfitta Prima o poi Doveva succedere Sapevate che Sarà stato un match difficile Si Reagiremo Cessuno si aspettava Una volta sconfitta Dobbiamo migliorare Eh la verità Non fate Cavolo Non fate Cioè Uno attacca E voi dormite Cosa dobbiamo fare Se la gente dorme Allora Aggiornamento No E tu No Ok Poi Aggiornamento Lui Sì 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 Seguro più vicino Questo è buono Buono forte Questo qua Questo è buono Questo è buono Qua sono tutti buoni Però non c'ho soldi Purtroppo No Questo no Questo è buono Questo no Questo no Questo no E Moretti Sì Ok Seguiamoli tutti da più vicino Speriamo che Il mese prossimo Abbiamo un po' di soldi Perché questi Veramente ragazzi Sono buoni Questi veramente Sono buoni 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 Come Sono buoni Questi qua Sono dei buoni Prospetti E quindi ragazzi Ci salutiamo qui Ci vediamo Lunedì Dove ci andiamo a fare Questa squadra qua E l'Atalanta Intanto Calafiori Cambia ruolo Che ruolo L'avevo messo Calafiori Terzino destro Sì Terzino destro Rimane 68 Però Li facciamo diventare Laterale Invertito Perché Calafiori Pure a destra Mi è piaciuto Quindi lo manteniamo a destra In caso Facciamo a destra Sinistra E ragazzi Un saluto Ci vediamo Lunedì Bella